va bene allora direi che possiamo iniziare buonasera a tutti ci ritroviamo qua per il nostro terzo appuntamento sulle problematiche della vela di altura io sono roberto nada sono il direttore della del centro velico vivere a vento un centro di formazione per la vela d'altura con base a genova e questa sera parleremo di meteo e routage quindi la domanda un po provocatoria che ispirerà tutta l'incontro di questa sera è ma a che ora arriviamo quindi come facciamo in base a una determinata situazione meteo a tracciare la rotta migliore che ci permette di arrivare possibilmente prima possibile ma comunque in sicurezza alla nostra destinazione quindi la serata di stasera è strettamente collegata a quello che abbiamo visto la settimana scorsa quando con meggiorine gianfranco meggiorine e navi meteo abbiamo chiacchierato e analizzato quello che significa fare le previsioni meteorologiche per il mare quindi abbiamo parlato di meteo di bollettini di modelli eccetera questa sera invece andiamo più ci focalizziamo di più proprio sui problemi della navigazione e questa sera con noi abbiamo come ospite Walter Pretelli che è un giornalista un navigatore e un appassionato di meteorologia docente di corsi di meteo di routage ma di questo avremo modo di parlarne quindi Walter ci accompagnerà in in questo viaggio sul mondo un po' magico e a volte poco conosciuto del routage io devo presentato presento diciamo i nostri relatori il panel di questo incontro perché innanzitutto devo ringraziare paolo biancon che il responsabile del settore vela d'altura dello york club italiano e il formatore world sailing perché la serata di stasera ha luogo grazie a grazie a lui visto che è lui che mi ha messo in contatto con Walter non so Paolo se vuoi dire qualcosa ricordati solo di togliere l'audio l'audio grazie Roberto grazie a tutti buonasera a tutti sì con Walter abbiamo avuto un incontro circa tre anni fa e da quel momento abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione con Walter organizziamo corsi di meteo routage allo york club italiano e direi che è stata un po' un'evoluzione importante perché da prima si organizzavano solamente corsi meteo con il buon matteo aria non so se qualcuno lo conosce ma è un grande personaggio con Walter abbiamo avuto questo questo progresso che ritengo sia giusto cavalcare in questo momento Walter è una persona molto in gamba e stasera ci spiegherà delle cose molto molto interessanti perfetto poi chiaramente Paolo visto che tu anche nelle tue navigazioni ti sei avvalso del ruta di Walter se poi hai dei commenti sull'aspetto lato navigazione come farò anch'io ovviamente i tuoi commenti sono preziosi grazie grazie l'altra cosa che l'altra premessa che voglio fare naturalmente intanto vediamo prima condividere lo schermo vediamo se funziona tutto quanto e che questo incontro come già avevamo spiegato la settimana scorsa questo incontro di stasera su routage fa parte di una serie di incontri dedicate alle tematiche delle vela d'altura abbiamo già parlato delle emergenze in mare abbiamo parlato della meteo oggi parliamo del routage prevediamo forse già dalla prossima settimana quindi vi teniamo aggiornati di parlare di delle problematiche dell'energia elettrica a bordo e vogliamo anche parlare visto che c'è stato sollecitato dopo il primo incontro sulle emergenze parlavo un po di più di come prevenire le avarie e guasti magari analizzando alcune avarie o problemi che possono verificarsi più facilmente e analizzando come gestirli e come prevenirli e poi magari avremo altri argomenti che via via aggiungeremo a questa serie ovviamente questi incontri che avvengono su zoom per gli ospiti invitati su zoom e in diretta facebook sulla pagina rivera vento e sul gruppo velisti in facebook queste sono delle chiaccherate con degli esperti con persone che hanno vissuto queste problematiche o che vivono queste problematiche dal vivo quindi protagonisti della della navigazione d'altura ma ovviamente sono degli incontri discorsivi stiamo parlando di problematiche che come vedrete anche stasera sono complesse con molte diramazioni con molti argomenti da approfondire e vi anticipo che questi incontri sono un po una un preambolo una premessa a un percorso teorico pratico che stiamo sviluppando e quindi il mio impegno è che molto presto vedrete qualcosa di più concreto che vuole proprio aiutare tutti quanti a passare dal ruolo di diportista cioè di chi esce dal porto naviga rientra in porto e se ha qualche problema si appoggia al meccanico al velaio al meteorologo eccetera per diventare invece navigatore quindi navigatore chi è quella persona che ovviamente non è un velaio non è un meccanico non è un ingegnere navale ma se ha un problema a bordo in qualche modo lo sa identificare lo sa detectare ci sa mettere una toppa che dura quel tanto che basta per poi entrare in porto e appoggiarsi al professionista quindi il navigatore è esperto perché sa conosce le cose e competente perché le sa fare e autonomo perché sa gestare gestire le emergenze le avarie gli imprevisti soprattutto quindi col passare del tempo entriamo più in dettaglio in questo percorso magari lascio un momento la parola anche a gianni che forse vuole aggiungere su questo argomento e sul molto gradito coinvolgimento di velisti in facebook quindi lascio a te la parola a gianni sì dicevo posso solo ripetere quello che hai detto tu in effetti questo è un programma che vede interessato anche il gruppo velisti in facebook e diciamo tutte le altre attività collegate al list in facebook quindi il canale youtube sito e la pagina ritengo che tutto ciò che riguarda la navigazione la sicurezza e la possibilità di rendere più autonomi tutti quelli che vanno in barca sia una delle maggiori finalità che possa avere un gruppo di facebook dedicato alla vela quindi con molto piacere condivido sia il progetto che la sua diffusione prima di iniziare un'ultima nota tecnica allora chi è presente sull'incontro zoom se ha delle domande le può fare in tempo reale scrivendoli in chat quindi vi chiedo cortesemente di non intervenire con l'audio col video per non interferire con il buon svolgimento della diretta quindi anzi gentilmente magari se potete staccare spegnere il video e l'audio e quando provrete la domanda io poi dopo vi metterò in contatto quindi potete attivare il video e l'audio e porre la domanda a Walter o al sottoscritto direttamente chi invece ci sta seguendo su facebook la diretta facebook se nella chat inserite la domanda mi farò carico io di rileggerla e di porla a di porla a uno dei relatori quindi in ogni caso questa presentazione come nostra abitudine è assolutamente interattiva io a questo punto lascerei la parola per ora Walter che così magari ti presenti e iniziamo a parlare di di ruttage allora buonasera Roberto Paolo Gianni buonasera a tutti niente la mia presentazione è molto breve mi piacerebbe parlare degli argomenti di stasera da appassionato da velista a tanti altri spero tanti appassionati e velisti per condividere quelle che sono esperienze e conoscenze in modo tale da incuriosire magari qualcuno in più per su questa su questo argomento io sono un giornalista scrivo su vele motore collaboro con Paolo per i corsi ora insieme anche a te spero Roberto di poter fare qualcosa e quindi niente possiamo cominciare a parlare di questo argomento riprendendo probabilmente da dove eravamo rimasti la volta scorsa con l'interessante serata di di navi meteo allora magari ti chiederei un favore se fai vedere la rotta dalla spezia macinaggio quella slide che avevamo preparato così io provo a spiegare un momento il il mio problema visto che ho un esperto come ti a disposizione vediamo se possiamo se posso girarti una domanda subito si aspetta un attimo perfetto ecco qua perfetto allora quello di cui vogliamo parlare stasera come al solito partendo da un caso pratico vi faccio fare un piccolissimo passo indietro a venerdì 12 e la mattina di venerdì 12 immaginiamo di voler partire da dalla spezia da fezzano per andare a macinaggio in corsica quindi vediamo di ripercorrere i passaggi che un buon navigatore deve fare per pianificare questa navigazione quindi adesso racconterò qualche cosa e poi lascerò la parola valta per entrare più in dettaglio e rispondere ad alcuni ad alcuni dubbi quindi questo appunto prendo io prendo io lo schermo dovresti soltanto togliere la condivisione tu valter ok allora la prima cosa che possiamo fare è guardare la situazione complessiva quindi ragioniamo in termini molto molto generici che chiediamoci che cosa sta succedendo nel mondo nel mondo che ci circonda quindi quello che vedete qui sono il gradiente barico quindi quello che si chiama normalmente la carta della pressione questa è una carta che ho scaricato dal GFS GFS è il sito di modellistica e di previsioni globali quindi per tutto tutta la terra di origine americana ma potevamo utilizzare altri siti e del tutto equivalenti quindi quando parliamo di una situazione così ad ampia scala normalmente le previsioni sono abbastanza concordi e qui sostanzialmente quello che vediamo in questo momento quindi questo è centrato alle ore 12 UTC vediamo che c'è una bassa pressione sul golfo di Genova e quindi una situazione di bassa pressione che si sta spostando con un'alta pressione qua che è in rimonta quindi qua se io avessi studiato questa carta con l'evoluzione avrei visto che c'era una bassa pressione che si stava allontanando un'alta pressione in rimonta e poi qui avremmo visto una bassa pressione in formazione sulle isole Baleari e in progressivo approfondimento quindi qui avremmo avuto una bassa pressione e qui avremmo avuto un'alta pressione in rimonta quindi una situazione come si studia una situazione dinamica. A questo punto io che cosa posso fare? chiedo a Walter di entrare più in dettaglio e parlare di modellistica quindi andiamo a vedere visto che abbiamo parlato la settimana scorsa di modelli andiamo a concentrarci sulla zona del Mar Ligure e vediamo a fronte di una situazione generale che cosa ci raccontano invece i modelli del vento. Ok intanto facciamo anche un'altra considerazione Roberto noi come dire partiamo dal fondo nel senso partiamo da da quello che sono le informazioni che abbiamo dando un po' per scontato quello che era già stato detto domenica scorsa relativamente ai dati che arrivano tramite i modelli la loro attendibilità o meno magari centriamo meglio centriamo meglio dopo ma li prendiamo per buoni come se avessimo già chiaro come poterli in qualche maniera leggere poi andando avanti magari o con le domande o con degli altri approfondimenti andremo meglio nel 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 dettaglio no perché altrimenti bene questa questa immagine che vediamo è quella di prima no sulla rotta è la situazione diciamo sì del modello GFS che è un modello a maglia a maglia larga globale in cui appunto in base a quella analisi eh che avevi fatto vedere te eh si intravede eh sulla sulla parte sinistra della rotta ovest della rotta questa saccatura ehm che si crea tipicamente nel golfo di Genova quando ci sono eh queste queste condizioni eh meteorologiche e quindi comunque il vento ha questa tendenza eh a entrare lentamente da 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 est la eh queste alle nove la visualizzazione eh e la saccatura è spostata leggermente a a sinistra continua a entrare il vento da da est a metà della diciamo sì della nostra rotta prescelta e questo invece a mezzogiorno più o meno un orario prossimo a quello che dovrebbe essere il nostro arrivo lo vedremo dopo e eh il vento che sta entrando ha eh praticamente chiuso sta chiudendo praticamente la saccatura eh a a nord ovest di della Corsica vado in fretta questo è un dettaglio invece alle cinque del modello eh Icon che è un modello di derivazione prevalentemente tedesco ha una maglia di nove chilometri e eh si vede insomma c'è un maggior dettaglio ecco qui vediamo alle cinque eh che la 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 saccatura è eh proprio sulla nostra proprio sulla nostra rotta e dopo vedremo che la rotta proposta eh sarà eh diversa da quella che ci proporrà il routage utilizzando il modello G GFS questo invece è alle nove sempre Icon con la saccatura spostata più a sud ma sempre sulla nostra rotta e questo è invece a mezzogiorno comunque ce l'abbiamo davanti ehm davanti a macinaggio per chi conosce quelle zone al di là del fatto che poi si sia realizzata o meno questa è una situazione abbastanza abbastanza tipica no? Che quando c'è anche vento forte eh che proviene da est eh tutti si aspettano sul capocorso tanto vento e invece può crearsi questa questa situazione eh particolare questo invece è eh la previsione non la previsione non diciamo mai la previsione eh questa è la risoluzione del modello eh Roma HD che arriva ora qui la vediamo uguale ad Icon ma eh arriva a una risoluzione eh di mezzo miglio di un chilometro sempre una risoluzione numerica eh cerchiamo ad essere chiari e qui invece la la saccatura ce la mette un pochino più ad eh ad ovest vi anticipo che insomma ci proporrà una rotta eh un pochino più verso verso la gorgona più a est ho sbagliato scusate poi infatti nel proseguire della della mattinata la saccatura eh risentendo della pressione del vento da est si sposterà eh più a ad ovest e eh per rimanere un residuo a nord nord ovest della della Corsica a a mezzogiorno. Credo che basti Roberto vogliamo andare a vedere anche le rotte proposte. No ma allora io direi la prima domanda che mi viene a fare guardando questi modelli che sono in parte simili ma hanno delle differenze significative tu che commenti se tu dovessi guardare la queste carte come commenti generali sulla situazione che cosa che cosa mi diresti se sono io che ti ho chiamato per sapere per avere dei consigli su come partire dalla Spezia? Ma guarda io ti direi proprio guarda prendendo come ehm una un verbo quello che è stato detto domenica scorsa la situazione nel Golfo di Genova e nel Mar Ligure è sempre estremamente complessa perché se noi andiamo a a vedere appunto queste diapositive guardiamo queste queste schermate ci rendiamo conto che eh quella quella saccatura che si viene a creare ha delle dimensioni ehm minime sarà avrà un diametro di venti trenta miglia non eh non di più però può diventare determinante per la navigazione eh in una navigazione media media lunga come può essere media chiamiamola così come questa eh a seconda dell'equipaggio di cui di disponiamo e quindi può diventare eh fondamentale eh fare la scelta la scelta la scelta giusta io ti direi eh te lo sai perché ci siamo confrontati un po' su queste immagini no prima eccetera diventa facile perché io dico sempre no che quando il il ruolo del navigatore no quando va bene è fortuna io uso un altro termine ma quando va male è colpa è colpa sua eh quindi credo che io sarei andato dritto perché ehm la variabile per cui quella saccatura potesse essere in in una posizione piuttosto che un'altra sarebbe eh sarebbe stata abbastanza ehm indeterminata nell'arco di tre quattro cinque ore eccetera e poi nell'andare avanti avrei poi deciso eh che direzione prendere proprio in base a quelle essenziali osservazioni meteo che ci dicevano eh domenica scorsa cioè analizzando via via quello che si stava stava accadendo. Se lascia un momento questa slide voglio ancora fare un commento io no perché anche alla luce della complessità della situazione mediterranea voi immaginate guardando questa questo modello poi ovviamente è un modello ma possiamo anticipare un modello sufficientemente accurato voi immaginate se io vado a navigare in mezzo già soltanto se io da macinare invece che era a Spezia volessi andare a Genova quindi volessi andare con una rotta praticamente eh dritta nord eh mi ritrovo venti che girano quasi di trecentosessanta gradi se io rimango un po' sul settore orientale mi trovo una tramontana molto forte qui vediamo tra i venti e i trenta nodi dritti in faccia quindi serve una rotta non percorribile. Mi sposto un po' a Levante e mi trovo un vento che apparentemente può essere piacevole perché trovo un vento da est eh quindici venti nodi che invece permetterebbe una navigazione di eh bolina larga attraverso eh chiaramente molto più agevole ma attenzione perché partendo da Capocorso eh nella zona di macinaggio invece addirittura mi trovo un vento che viene richiamato dal dal tireno meridionale quindi arriva Scirocco quindi arriva un vento da sud est quindi vedete come eh l'incontro di questi venti lì ha come diceva Walter in un oraggio di dieci venti trenta miglia crea questa depressione che potrebbe cambiare completamente di posizione in base a piccolissime variazioni di pressione di intensità del vento e quindi la situazione può variare molto rapidamente quindi io magari penso di navigare eh con un vento attraverso e poi invece mi trovo il vento in faccia e il modello che ha sbagliato no è la situazione aerografica del Golfo Ligure che è molto complessa e che come si diceva con Davimeteo è addirittura proprio oggetto di studio tutti gli studenti di meteorologia del mondo prima o poi avranno un esame difficile in cui devono parlare di cosa succede nel Mar Ligure questo è un po' l'incubo eh di tutti i meteorologi quindi io arrivato a questo punto proseguendo un po' il percorso che deve fare il buon navigatore noi siamo a Spezza dobbiamo partire abbiamo guardato la situazione barica complessiva abbiamo guardati la modellistica che ricordiamo ci sono numeri e sono numeri sputati fuori da un da un da un computer da un sistema di calcolo cos'è l'informazione aggiuntiva che a cui possiamo accedere ma l'informazione aggiuntiva a cui possiamo accedere che è molto importante sono i bollettini quindi il bollettino eh che cos'è è l'opera di un di un essere umano di un esperto di un meteorologo del del Gianfranco Meggiorin della situazione che che fa guardi i modelli guarda la situazione ci mette tanta 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 sua esperienza e elabora una una descrizione verbale di quella che è la situazione visto che stiamo parlando del Mar Ligure stiamo andando in Corsica io qua vi faccio vedere per quella giornata di venerdì 12 febbraio che cosa ci diceva Meteo France quindi che cosa andiamo a legge su Meteo France anche qui è importante leggerlo con attenzione perché potremmo avere delle informazioni che potrebbero magari trarci eh in inganno allora io la prima cosa che faccio visto che devo attraversare il Mar Ligure vado a vedere il bollettino quello che i francesi chiamano bollettino large che quindi il bollettino in mar aperto quindi il bollettino in mar aperto per il Mar Ligure e io che cosa trovo? Trovo che c'è un VMS che è un bollettino meteorologico speciale quindi è quello che l'equivalente in italiano dell'avviso di burrasca che dice che c'è una burrasca in corso e prevista per il Mar Ligure quindi dico porca miseria c'è una una burrasca lì davanti da qualche parte e se vado a leggere la situazione generale eh leggo Mediterraneo occidentale depressione che si sta approfondendo a nord delle Baleari eh per spostarsi verso est eh e poi trovarsi sul Mediterraneo eh eh sabato pomeriggio quindi c'è questa depressione di cui abbiamo parlato prima e sul Mar Ligure in particolare mi dà vento nord 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 est 4 a 6 in rinforzo 6 a 7 in fine giornata eh e arriva addirittura la notte a forza 7-8 con raffiche quindi situazione che sicuramente fa passare un po' la voglia di navigare leggere una cosa del genere qui ricordiamoci sta parlando di una situazione su media scala tutto il Mar Ligure abbiamo visto che i modelli vanno poi già invece a dettagliare che succede qualcosa sulla sulla zona ovest e qualcosa di diverso sulla zona est per completare questa informazione cosa faccio sempre bollettino vado a vedere il bollettino della Corsica il Metro France è un sistema di previsioni meteorologiche molto efficace perché innanzitutto distingue tra bollettini a largo bollettini costieri e poi i bollettini costieri li dettaglia zona per zona quindi vado a vedere il bollettino per la Corsica allora innanzitutto qua mi dice mi legge in dettaglio il bollettino di Burrasca che vedete dice bollettino di speciale per la Corsica vento in rinforzo settore nord est localmente 8 a sud della Chiappa raffiche e quindi va bene quindi questo è quello che avevamo già visto se io però vado a leggere il bollettino di dettaglio quello che vedete qui in basso nella nella slide cosa mi dice mi dice che sulla zona nord la balagna è la zona di Calvi come dice vento variabile 2 a 4 quindi sostanzialmente poca roba direzione variabile che si orienta direzione nord est 4 a 5 alla fine e pomeriggio quindi qui tutto quella botta di vento forte di cui abbiamo parlato mi sta dicendo che però sulle coste della Corsica non arriva quindi è una situazione per esempio che mi fa capire che una situazione che si verifica al centro del Mar Ligore ma non lungo non lungo le coste e quindi questa è un'indicazione aggiuntiva che io potrò incrociare con i modelli perché evidentemente queste queste questo forte grecale grecale tramontana è qualcosa che si sviluppa della Liguria e si spinge in avanti nel Mar Ligore ma che non raggiunge sostanzialmente le coste della Corsica quindi a questo punto io non nascondo che guardate la situazione barica complessiva guardate i modelli che posso aver trovato su una qualunque app come come windy sono andato a legge i bollettini meteo e sostanzialmente mi rimane una certa confusione mentale perché dico ma allora c'è vento non c'è vento sto a est sto a ovest quindi io magari non ho tanta esperienza e ho qualche difficoltà a decidere se partire come partire dove andare allora a questo punto io decido di fare un po' una magia quindi chiedo a Walter di aprire come un prestigiatore la sua scatola magica che è la scatola del Routage e di raccontarci come un Routage può farci vedere la nostra la nostra rotta migliore allora Walter visto che è un prestigiatore ma un prestigiatore serio ci racconterà quali sono gli ingredienti della magia che sta per manifestare davanti ai vostri occhi e poi insomma lascia lui la parola a te il palco quindi raccontaci raccontaci che cosa che cosa può aiutarci a fare il Routage se siamo in dubbio se partire o meno allora prima di fare il Routage credo che sia fondamentale almeno una impolverata diciamo così di alcuni dati probabilmente molti di quelli che stanno seguendo la diretta conoscono però è credo che sia essenziale descriverli quindi anzi cerco anche di essere cercherò di essere più semplice possibile però come come sai Roberto nel cercare di essere semplice a volte si usano termini un po' come dire banali che non sono proprio il massimo della tecnica però cerco di raggiungere l'obiettivo allora intanto il sistema di Routage diciamo così è un sistema che viene fatto tramite dei modelli matematici che cosa fanno questi modelli matematici? Mettono insieme i dati della barca, le capacità, le prestazioni della barca con i dati numerici dei modelli che abbiamo visto. I dati dei modelli meteo sono griglie numeriche che ci dicono tutta una serie di informazioni e la loro evoluzione nel tempo in una determinata area poi vedremo anche come sono che caratteristiche hanno e invece le prestazioni della barca sono anche questi dati numerici inizialmente teorici poi chi fa regate va anche a approfondirle e a dettagliarle trasformandole in dati reali con le misurazioni costanti delle proprie performance della barca ma qui cerchiamo noi di parlare per un utilizzo del Routage soprattutto in questo momento per il diporto e per la sicurezza perché ci può aiutare a determinare delle scelte in maniera in maniera in maniera sicura quindi io parlo un attimino dei vi parlo un attimino dei delle polari che sono i diagrammi con i quali vengono calcolate o meglio riportate allo strumento elettronico le prestazioni della barca si chiamano diagrammi polari perché questo grafico in cui si vede è un grafico polare dove sono riportate tutte le prestazioni della barca le vediamo a seconda dei dei colori eccetera a alle diverse andature cioè viene riportato nella tabella di destra qual è la velocità che la barca teoricamente dovrebbe fare ad un determinato angolo reale al vento con una determinata intensità intensità di vento questo viene riportato quindi in in un foglio di calcolo e questo foglio di calcolo con dimmi non hai condiviso lo schermo non si vede ah vi chiedo scusa ecco ecco scusatemi ecco qua fantastico allora ritorno ripeto quello che avevo già detto praticamente qui abbiamo un foglio di calcolo dove viene riportato il le prestazioni della barca i teoriche in funzione del dell'intensità del vento della direzione del vento e viene riportato su quel diagramma in pratica quel diagramma serve per farci capire quanto è il nostro visto che noi non andiamo mai contro vento va bene quanto è poi il nostro avanzamento reale rispetto 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 al vento riportato sulla sull'asse dritto della della di quel di quello schema aspetta un attimo ecco qua questa è una tabella che chi ha chi fa regate per esempio questa qui è la tabella che viene riportata sono le vpp le le la velocità predittiva teorica della barca e viene riportata sui certificati di stazza delle barche che fanno che fanno le regate questo può essere appunto uno degli strumenti con i quali si può utilizzare utilizzare la i dati i dati i dati numerici dobbiamo distinguere fra il dato reale il dato teorico perché dipende molto insomma diciamocelo francamente sia dal manico che da tante altre variabili la condizione della barca le vele il questo non tiene conto per esempio delle onde del della corrente eccetera per far capire e rubo altri trenta secondi per far capire un pochino eh meglio utilizzo questa eh questa slide questa questa diapositiva in pratica eh noi riusciamo qui qui riusciamo a vedere la barca a seconda di come viene condotta rispetto al al vento quanto riesce a risalire il vento ci sarà un angolo a volte c'è la tendenza a voler orzare di più per raggiungere meglio il proprio eh obiettivo eh invece eh c'è sempre una un angolo migliore per ottenere una un un avanzamento un avanzamento migliore poi eh questo può essere tranquillamente eh 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 variato rispetto al comfort che vogliamo avere nella nella nostra nella nostra navigazione eh poi che cosa eh parlo ora dell'esocrone Pao eh Roberto? Sì sei messo tutti gli ingredienti abbiamo eh questo eh i glib e eh certo vai pure tutto tuo. Allora in pratica a questo punto cosa succede il come dicono francesi l'ordinateur insomma il il computer eh mette insieme le informazioni che vengono dai modelli meteo mette insieme le informazioni della della prestazioni teoriche della della barca e a questo punto eh ci deve ci prova a consigliare quello che potrebbe essere la la rotta più veloce per raggiungere un un punto e e che cosa si eh utilizza? Utilizza il sistema delle isocrone ve lo provo a far vedere un attimino eh in pratica partendo da da un punto calcola tutti i punti che in un intervallo di tempo dieci minuti, mezz'ora, a chi fa l'oceano tre ore eccetera riesce a raggiungere eh nell'arco del tempo dopodiché ricalcola sempre con le informazioni relative a quel punto lì a quel punto lì con il meteo quindi c'è una sequenza temporale eh ricalcola nuovamente il la distanza che potrebbe percorrere eh in base incrociando appunto il il vento che eh è previsto e eh i dati della eh prestazioni della barca e questo per tutte le varie eh scalature del del tempo no? Qui vediamo partendo da un punto no? C'è eh un intervallo di tempo, c'è un intervallo d'angolo e quello che onestamente bisogna dirlo no? un vecchio marinaio mi potrebbe dire ma io lo facevo da solo in base alle previsioni guardando il cielo eccetera purtroppo i i vecchi marinai eh erano non erano tanti prima ed erano tutte persone d'esperienza eh ora tante persone vanno per mare e hanno bisogno di 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 un possibile aiuto. quello che dico io e che consiglio veramente a tutto è che tutto quello che viene fuori da questi dati, da questi risultati va preso solo e soltanto con con le molle. deve essere soltanto un aiuto per farci fare un ragionamento in più e per farci eh capire quello che potremmo incontrare eh perché ad occhio io che parto dalla spezia e vado a macinaggio con le previsioni posso dire sì più o meno sarò eh in quel in quel punto soprattutto se conosco la mia barca quella che può essere la sua prestazione eccetera. però magari un un aiuto in più no? Che ti dice guarda se se le previsioni sono confermate e lo dovrai verificare momento per momento a quest'ora potresti essere qui e potresti trovarti invece venticinque nodi eh in prua ecco. e questa poi è un'altra eh descrizione no? Le linee gialle sono quelle che sarebbe la distanza che si può raggiungere nell'intervallo del tempo e la linea rossa nel centro è quella che descrive più o meno eh la rotta la rotta ottimale. ti dà la rotta ottimale poi vedremo dopo se c'è tempo anche si può mettere anche dei parametri di comfort dove si riduce il vento e si dice che non voglio affrontare più di un certo vento, non voglio affrontare più di una certa onda eccetera. Mi sembra di aver detto tutto Roberto, non so, dimmi tu. Sì sì, vediamo vediamo le volte, vediamo che cosa l'elaborazione a questo punto. Ah, ok, a questo punto allora andiamo a vedere quello che ci consiglia eh quella quella mattina quella mattina lì i vari modelli che abbiamo eh che abbiamo visto. Bene, se ci ricordiamo quello che avevamo detto vale a dire che ehm GFS questa è la routage che ci propone il GFS. la barchetta è lì a alle nove, quella arancione al centro. Condividi lo scherbo, Walter lo scherbo? Ah, scusami. Ah, porca miseria. Non me lo fa condividere, aspetta un attimo. Ok. Ok. Dunque se ricordiamo quello che avevamo detto prima, va bene, questo è il modello GFS, quello a maglia più larga, mh, quindi meno dettagliato, dava questa saccatura più a ovest e quindi ci consentiva tutto sommato di ehm fare una rotta quasi ehm quasi quasi diretta. ehm se se vediamo lungo il il percorso ci sono ehm chiamiamole le freccettine con la direzione d'intensità del vento da un lato, dall'altro lato c'è la direzione di quella che potrebbe essere la corrente e l'onda che andiamo a incontrare. Infatti arrivando verso macinaggio piano piano aumenta il vento e ci ritroviamo un pochino di onda ehm onda contro, ma non abbiamo il vento contro. Questi strumenti ci consentono anche, vi faccio vedere solamente due schermate rapidamente, ci consentono di avere un'analisi anche un po' delle condizioni che possiamo andare a trovare. In pratica la questa navigazione ci dice che è settantuno miglia e mezzo che dura nove ore, nei grafici a destra vediamo che il vento è quasi esclusivamente da nord est est nord est e sotto invece il vento sarà concentrato prevalentemente fra i cinque e dieci nodi e i quindici e venti nodi. In quel range lì ci sarà solamente una una un po' di vento fra venti e venticinque nodi, ma se andiamo poi a vedere quello che ci dice come modello la la previsione noi vediamo che la linea blu è quella che ci fa vedere ehm l'intensità l'intensità del vento. Avremo fra le dodici eh fra le nove e trenta e le undici diciamo sì avremo più di diciotto nodi ma le avremo se guardiamo il disegnino della barca sopra a al mascone insomma anzi al giardinetto eh e quindi un un vento un vento un vento in poppa. eh quindi eh una navigazione seppure con un vento intenso tutto sommato accettabile direi io poi insomma dipende dai 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 da da chi va in mare. Questo invece è quella che è la rotta consigliata da da Icon che è un modello appunto come dicevamo a maglia più o più stretta ci fa scansare la 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 saccatura che eh abbiamo abbiamo davanti o comunque che prevede che ci possa essere eh che ci possa essere eh davanti. Quindi già è molto diversa come come soluzione proposta no? E anche qui abbiamo un vento prevalentemente da eh nord est in pratica e non supera mai i i venti nodi. Quindi eh tutto sommato eh si arriva a venti nodi ma eh è un vento portante che ci aiuta che ci aiuta eh abbastanza. Roberto interrompimi eh se certo ma guarda ti eh ti giro solo una domanda che è arrivata da da Facebook forse non ci è sfuggito non ne abbiamo detto ehm vuoi soltanto menzionare qual è il programma che stiamo utilizzando adesso? Ah sì allora ehm questi sono degli screenshot di Squid eh anzi ehm questo è SquidX che è eh un software che eh gira ehm stato scelto apposta io solitamente mi diverto di più con un altro che faremo vedere dopo ma questo ha il grande vantaggio di eh girare sia su eh Windows sia su Mac ma anche eh ci sono le applicazioni per Android e per iOS quindi è veramente multi piattaforma e quindi fornisce è gratuito eh il download ehm poi vedremo ma insomma eh invece i modelli meteo eh oltre il GFS eh sono eh sono a pagamento eh però hanno dei costi tutto sommato tutto sommato ragionevoli. Tieni presente che molti dei modelli per chi è un come dire un eh un nerd internauta si possono anche trovare non immediatamente e gratuitamente però diciamo è molto più funzionale e rapido per qualche decina di euro eh utilizzare gli abbonamenti. ecco aggiungo solo visto che ho visto altre domande ehm commenti su questo eh prima della fine della dell'incontro faremo poi anche vedere una una tabella riassuntiva un po' di eh di vari modelli di vari vari applicazioni e vari programmi che possono essere utilizzati quindi questo è sicuramente uno eh è uno di questi ehm intanto Gianni vuole rifare una domanda tu su questo? eh sì volevo chiedere questo il modello ti fa il calcolo diciamo nel momento in cui tu lo lo realizzi ovviamente ipotizziamo che dopo sei ore di navigazione tu hai ottenuto una velocità che non è quella prevista diciamo la metà. il modello si automatizza e quindi ricalcola e riprevede la rotta sulla base della nuova posizione oppure rimane quella precedente? No allora dipende da allora poi lo vediamo magari ma dipende dai software e dipende dagli applicativi ci sono i software professionali eh che costano qualche migliaio di euro tipo Adrena tipo Expedition eccetera che fanno questo tipo di operazione quasi in eh in automatico. le applicazioni quelle che io definisco la democratizzazione delle informazioni ehm a seconda degli applicativi possono rifare assolutamente sì dalla posizione dove eh dove sei perché interfacciandoti con gli strumenti interfacciando l'applicazione con gli strumenti della barca ti fa la traccia come fai solitamente se uno usa non so la cartografia Navionics eccetera eccetera ti rimette la posizione fa vedere la differenza e te fai la rotta da quella posizione lì alla nuova alla destinazione a quell'orario lì con il modello di cui disponi eh perché come è stato detto la scorsa settimana i modelli quando arrivano ad essere utilizzabile come rilevazione del dato sul quale poi fanno tutta l'elavorazione sono già vecchi di sei di sei ore poi c'è un altro eh intoppo che ci può essere è che alcuni applicativi fanno la ehm il routage soltanto eh questo è l'inconveniente del costo no? Alcuni applicativi fanno eh il routage solo se sono eh online per cui mandano la richiesta al server e tornano indietro quello che uso io se hai te scaricato le previsioni anche se possono essere vecchie di qualche ora ti consente di farlo eh offline direttamente la la il routage e quindi c'ha questo questo vantaggio. quindi funziona bene per chi ha riesce a tenere la velocità delle polari e e invece chi probabilmente non non ce la fa o si può inserire una velocità più bassa nel momento in cui si si utilizza il modello eh oppure bisogna focalizzarsi molto sulla velocità della barca. ma è dipende ma certo ma guarda puoi tranquillamente nel allora in questi eh applicativi puoi anche eh mettere un un gap sulla sulla colare cioè dici dieci per cento quindici per cento venti per cento e meno di prestazione. Certo e ultima cosa ovviamente poi la modifica che tu vorrà richiedere diciamo anche pur avendo il software quello più elaborato ehm presupposto opporrà immagino che ci vuole una connessione internet quindi se se sei a metà del del percorso probabilmente in ogni caso non riusciresti a a modificare. Allora eh diciamo diciamo così che eh in un percorso di nove ore come questo eh credo che mh la la l'obsolescenza del dato sia tutto sommato non tanto rilevante rispetto a quella che è l'osservazione del dato reale da parte di che in navi onestamente cerchiamo di essere se no veramente ci affidiamo troppo a lo dico lo dico da da appassionato di questo argomento ma se no ci affidiamo troppo a a tutto questo. Poi c'è anche la possibilità però ti ripeto se te hai scaricato il dato meteo alla partenza in questo caso qui puoi rielaborare con alcuni applicativi eh la rotta con il dato che hai a disposizione. che poi vedrai se è coerente o meno con quello che stai osservando perché è essenziale questa questo questo elemento. Guarda intervengo anch'io tra l'altro cerco di rispondere eh ad alcune delle domande ne stanno arrivando ovviamente tante. Allora innanzitutto in generale ehm questi applicativi non girano solo su PC ci sono a vedere Walter a breve ehm eh oltre a SquidX altri applicativi molto belli che girano eh su eh su tablet quindi su iOS o come SquidX che gira tranquillamente su eh sia su Android che su iOS quindi per farli girare non è necessario avere un PC a bordo. La il la il loro grado di autonomia eh quando non abbiamo un collegamento internet riguarda due aspetti. Allora noi l'autonomia è uno poter scaricare i dati meteo quindi chiaramente se non ho satellitare sono in mezzo al mare i dati meteo non riscarico. eh come diceva Walter innanzitutto in navigazione in Mediterraneo normalmente il periodo in cui siamo fuori senza copertura dati è molto breve. Per esempio a queste rotte qua le conosco molto bene partendo dalla Spezia e andando verso eh la Corsica per un bel po' si è sotto la copertura delle cede telefoniche eh della eh della Versilia. Poi ci si avvicina a Capraglia e si aggancia la rete di Capraglia quindi in realtà stiamo parlando di poche ore di mancata copertura quindi ci hanno dei dati aggiornati. Poi ci sono degli applicativi magari un po' più semplici più economici che il calcolo del routage non lo fanno sul vostro PC sul vostro tablet ma lo fanno girare su un un server eh che è proprietario che è piazzato da qualche parte in America in Inghilterra in Germania eccetera. Quindi in quel caso per esempio come come con Squid se non avete un collegamento internet anche se avete i dati meteo eh voi non potete far girare il routage. Ci sono altri programmi via via più sofisticati che invece fanno girare tutto sul sul vostro dispositivo e quindi hanno un'autonomia eh un'autonomia molto maggiore. eh un'altra domanda che eh c'è stata fatta eh qua su Zoom la leggo io perché la rimando più che altro dopo eh ci chiedono se il modello mi permette di scansare le zone che considero pericolose eh o che considero poco performante. Li ho un po' collegato a quello che diceva Gianni. Il modello mi permette di dire voglio navigare eh sotto in velato e quindi vado più lento delle polari. allora lo vedremo poi dopo eh questi questi sistemi hanno tutta una serie di opzioni ci vorrebbe davvero una giornata in aula a giocarci sopra per imparare a usarli correttamente ma ci permettono tantissime opzioni quindi la risposta è sì eh ma ne parliamo tra dieci minuti così adesso eh andiamo avanti su questa permettiamo avanti di finire l'analisi dei eh per far vedere questo è molto interessante quello che sta facendo vedere Valsa cioè ci sta facendo vedere come modelli diversi ci portano a tracciare volte diverse quindi Walter rimando a te eh sì ehm guarda eh riprendendo quello che hai detto te ma solo brevemente eh noi possiamo eh inserire nella nella diciamo sì nel l'elaborazione del routage diversi parametri il vento massimo che voglio trovare in poppa il vento massimo che voglio trovare in in prua l'onda massima o addirittura mettere la velocità della barca e dire se io faccio meno di due nodi a vela eh dimmi eh impostami la rotta a motore facendo sei nodi e fammi vedere a che ora a che ora arrivo ecco quindi ci sono tanti elementi eccetera ma ripeto vanno usati per ragionarci sopra non per seguirli in maniera eh pedisse qua insomma allora qui allora stavamo parlando dell'ultimo modello quello di eh Roma HD non vi nego che è è uno dei modelli che io utilizzo sempre di più perché è uno dei più dettagliati e e precisi eh questo non vuol dire che sempre ci indovini questo vediamo ecco eh vediamo che ha un eh invece mentre gli altri dicevano tutto che era est nord est e qui est nord est non ne vediamo quasi niente è tutto est sud est e da ultimo sud sud est con un bel dieci per cento di eh vento su fra i venti e venticinque nodi ecco questo è già un 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 eh eh faccio una battuta eh Roberto eh mi è capitato eh anche di eh avere qualcuno a bordo che mi ha detto ah ma allora scegliamo il modello quello più confortevole no perché non come dato di analisi ma scegliamo quello senza tener conto che non è la realtà tutta questa e qui vediamo infatti che abbiamo un vento al eh al traverso all'inizio eh di eh più di eh più di venti no di venticinque nodi che poi andrà piano piano a calare ma mentre va a calare quindi mentre ci avviciniamo alla alla Corsica ci eh ci gira in in prua è una bolina larga ma che poi sappiamo benissimo dal reale si trasforma in una bolina più 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 stretta alla fine eh è secondo me carino vedere le tre proposte che ci vengono ci vengono fornite quella al centro è quella col modello GFS quella a sinistra è quella quella a ovest è quella dell'Icon e quella a est è quella del della Roma HD quale scegliamo? io questa parte l'avrei finita Roberto dimmi tu certo allora hai delle domande o se andiamo avanti sì allora guarda aggiungo ancora una domanda che è interessante che è arrivata su ehm arrivata su eh su Facebook da Claudio che chiede ma questi modelli tengono anche conto della scarro dello scarroccio della deriva allora se impostiamo eh allora se impostiamo eh l'onda prevista eh la corrente prevista eh sì entro certi limiti sì e i limiti quali sono eh sostanzialmente sulla corrente noi purtroppo come diceva anche Meggiorin eh la scorsa settimana ehm non abbiamo dei dati numerici sulle dati numerici sulle correnti che siano molto molto eh affidabili poi sì sì allora guarda e magari mi collego proprio a questa domanda così porto anche una una mia esperienza un'esperienza di di navigazione allora chiaramente eh tu quello che si stai facendo vedere è quello che succederà cioè anzi un tentativo di prevedere quello che succederà sia a livello a livello di evoluzione meteo eh che poi incrociando l'evoluzione meteo con quella che sono le caratteristiche della nostra barca e quindi otteniamo queste 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 diverse rotte poi si tratta di valutare quale mette quale modello riteniamo più affidabile per scegliere quale seguire però da un punto io ritorno dal punto di vista del navigatore cioè io devo anche fare eh delle altre valutazioni eh che sono eh che cosa è successo prima perché noi stiamo guardando una situazione puntuale sul futuro allora se io guardo quello che è successo quello che è successo prima cioè quello che è successo nelle dodici ore precedenti vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua allora questa era la situazione a luna di notte a luna del mattino di venerdì allora vedete che a luna del mattino eh di eh del venerdì prima della partenza noi avevamo una situazione classica devo dire che era quella di una eh depressione una profonda depressione qua sul Mar Ligure con dei venti di tipo depressionario in rotazione depressionaria intorno eh al alla bassa pressione questo in particolare ci portava sulla zona della di Capocorso e al lago di Capocorso di avere la classica situazione di venti da eh da libeccio eh intensi quindi questa era la previsione che da 28 nodi eh purtroppo non sono riuscito a salvare lo screenshot ma se fosse andato a vedere il vento misurato nella notte dalla stazione meteorologica di Capocorso che tra poco vedremo è un dato che possiamo a cui possiamo accedere in tempo reale quindi la stazione meteorologica posizionata qui sul capo eh le raffiche di vento sono arrivate a 35-38 nodi quindi vuol dire che per tutta la notte eh nella mia zona di navigazione eh ha soffiato un libeccio con un fetcher eh di eh centinaia di miglia quindi una un vento di questo tipo avrebbe ha sicuramente generato un'onda molto importante tra l'altro penso sappiamo tutti che nella zona a largo di Capocorso tra Capocorso e la Giraglia c'è una eh un innalzamento importante dei fondali marini quindi qui l'onda tende a addirittura a frangersi ma comunque quindi anche a largo onda eh onda importante e di conseguenza questa onda cosa cosa come si manifesta adesso adesso il vento ha girato è entrato alla tramontana è entrato eh il il levante ma sicuramente rimane un fenomeno di onda lunga eh importante magari anche un paio di metri di onda lunga quando mi allontano dalla da Spezia allora ehm i modelli eh i modelli di ruttage che cosa riescono a inglobare? Inglobano eh le correnti sicuramente quindi la deriva viene valutata eh possono inglobare lo stato del mare quindi posso dire sto navigando in mare piatto in mare mosso in mare molto mosso ma come informazione generale non riescono a inglobare il il dato dello scarroccio e quindi il dato dello scarroccio è una di quelle variabili che ritorna nelle mani dello skipper cioè il comandante che deve decidere cosa fare deve tenere conto di questo elemento per esempio se io vado in Corsica partendo la nida di mattina devo tenere conto che sicuramente incontrerò onda lunga e anzi onda lunga da sud ovest che incontra un vento fresco fresco da est di quindici venti venticinque nodi vorrà dire che mi trovo mare incrociato allora eh nella mia definizione della comfort zone della mia zona di sicurezza e dipenderà dalla barca dipenderà dall'equipaggio magari se sono con la mia famiglia con bambini piccoli magari non voglio navigare per cinque sei dieci ore in un mare di questo tipo quindi eh e sicuramente anche se sono con un equipaggio da regata rispetto alle polari teoriche un'onda di prua eh eh onda lunga di prua con mare incrociato sicuramente mi comporterà un un rallentamento un peggioramento di quella che è la mia performance e quindi io per esempio dovrò tenere conto tenere conto magari dicendo le mie decido di eh di fare un downgrade delle mie polari e dire al programma di routage eh considero che io non navigherò al cento per cento non navigherò in velocità target magari andrò all'ottanta al settanta al sessanta quanto e fortunatamente rimane un mare argine importante di discrezionalità e di competenza dello skip quindi come si diceva è importante sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione però dobbiamo essere noi alla fine a fare una sintesi. Un altro aspetto di cui volevo però parlarvi è abbiamo visto il passato abbiamo visto il futuro vi ricordate chi di noi voi era con noi eh nell'incontro con Meggiorin si diceva anche alziamo le antenne e impariamo a guardarci intorno perché anche l'osservazione del presente ci permette di capire che cosa sta succedendo. Allora se io parto da Fezzano come sapete il golfo di Spezia è molto ridossato io di quello che c'è fuori della eh della piccola depressione che si sta formando eccetera io non vedo nulla però di nuovo fortunatamente la tecnologia oggi ci offre degli strumenti in più che mi permettono di eh diciamo di allungare un po' più l'antenne. Allora vediamo due esempi di questi strumenti che sono proprio la portata di tutti. Eh nel conosce ne abbiamo già parlato nel primo incontro comunque uno strumento che usiamo in navigazione è l'AIS quindi l'AIS è quel trasmettitore che abbiamo a bo che molte che le navi e che le le imbarcazioni possono avere a bordo che trasmette i nostri dati di navigazione che funziona sostanzialmente come un sistema anticollisione. Allora le navi in particolare però hanno un trasponder che oltre alla eh loro rotta e velocità e posizione trasmette anche alcuni dei dati rilevati sul momento in particolare temperatura dell'aria e vento. quindi facciamo un esempio io mi collego a un normale un sito internet come per esempio Marine Traffic ma ce ne sono altri che sono quei siti che ci fanno vedere eh il traffico navale quindi le navi che stanno trasmettendo con l'AIS e che sono viste che sono spazzolate da una stazione di terra quindi qua non stiamo vedendo tutte le navi che ci sono in Tirreno in Ligure ma stiamo vedendo quelle navi nel Mar Ligure che le stazioni terrestri eh riescono a eh a ricevere. Allora io ho qua indicato con una freccia rossa qui c'è una nave che è posizionata più o meno io siamo alla partenza quindi è eh venerdì mattina questa è una nave che è posizionata più o meno dove eh si doveva creare quella saccatura di cui ha parlato eh di cui ha parlato prima volta è quella saccatura che i modelli di dettaglio prevedono e che i modelli a maglia un po' più grossolana non prevedono. Allora io a quel punto cosa faccio? posso clicco eh posso cliccare su questa nave mi si apre uno schermo di dettaglio che mi dà tutta una serie di informazioni mi dice come come si chiama la nave mi dà il eh l'MMSI la posizione mi dice che sta navigando con vedete qua con una velocità di undici virgola nove nodi eh rotta trecentotrentaquattro gradi eccetera e poi importante mi dà quello che sta misurando mi dice che questa nave sta misurando un vento da est eh velocitamente velocità venti nodi. Adesso poi passerò la parola eh di nuovo a Walter che commenti questo dato ma sostanzialmente io quello che vedo è che questa nave che si troverà dovrebbe trovare all'interno della saccatura e invece che avere il poco vento che c'è all'interno del al centro della depressione mi dice che ci sono venti nodi da est. È un'informazione puntuale. così come io posso andare a vedere eh la stazione meteorologica di Capocorso quella di cui abbiamo parlato prima questo è una eh uno screenshot di Windy quindi un'app disponibile gratuitamente a tutti qua mi sta dicendo che la stazione meteorologica di Capocorso l'ho evidenziato in in rosso vedete che mi indica un vento di direzione duecento quaranta gradi quindi sostanzialmente un eh un sud ovest eh undici nodi di velocità quindi una una previsione di vento per esempio ben diversa da quella che mi prevedevano i modelli per esempio a Roma. Eh qua è interessante se qua guardiamo sotto lo sto puntando con il evidenziatore qua fa vedere l'evoluzione del vento anche nella notte vedete che nella notte di venerdì eh nella notte di venerdì il vento era stato di intensità anche eh ben maggiore come come abbiamo come avevamo detto durante la notte c'era stata la notte c'era stata la notte tra giovedì e venerdì una violenta burrasca da sud ovest. Adesso a questo punto però rigiro la palla a Walter e dico allora io vedo queste cose tu che conclusioni ne traresti in base al ai tuoi modelli utilizzando anche quello che le mie antenne mi fanno vedere oggi. Eh eh Roberto ti direi che eh quello che avevo proposto eh all'inizio eh sì un attimo ecco ti direi che quello che avevo proposto all'inizio vale a dire di cercare di andare più 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 dritto eh probabilmente era la soluzione migliore proprio per la indeterminatezza che queste saccature eh creano eh nella loro crescita, nascita, evoluzione e poi eh spostamento. Eh perché? Perché avremo comunque poi potuto eh evitare eh lunghe curve sulla 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 nostra sulla nostra rotta. decidendo poi volta per volta a seconda dell'evoluzione eh reale quello che eventualmente avremmo eh potuto fare. Eh è interessante vedere quello quello che poi eh perché noi abbiamo io ehm avevamo degli screenshot però eh ho salvato su Squid la la situazione e ora ve la metto un attimo in in condivisione. ve la metto in condivisione e in pratica ecco noi vediamo qui le ho ora ho tolto la rotta quella GFS eccetera. In pratica eh questo puntino qui eh dove c'è scritto meteogramma su Squid è eh il punto dove più o meno eh te hai fatto la la rilevazione di eh di quella nave no Roberto? esatto esatto esatto. Allora eh tutti i modelli hanno la possibilità di eh se salvati eh hanno danno la possibilità di eh poter accedere alle informazioni anche in maniera come dire sovrapposta. se io clicco su meteogramma qui in questo caso eh vedo eh le informazioni più o meno anche per chi conosce Squid molto 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 simili no? E a eh alle dodici di eh del del dodici se io guardo i vari modelli no? qui vedo GFS mi dava addirittura ovest. Icon sud ovest. Arpege sud sud ovest. A un certo punto ECMVF eh che è l'Irlam a nove che tra l'altro viene utilizzato anche da da Lama come modello base per le sue elaborazioni. guarda caso eh ci dà eh aspetta un attimo ecco qua ci dà venti nodi ci dà venti nodi da ottanta gradi che è più o meno quello che eh ci dà eh ci riporta la la nave. quindi a Roma addirittura invece dodici nodi da sud. Quindi la la situazione è che eh dice un modello ci aveva indovinato no? Quindi ma come fai a prenderli tutti? No è è è è è un ragionamento che dobbiamo fare anche come debriefing successivamente per prendere esperienza su quello che eh abbiamo eh abbiamo vissuto. se io vado a guardare però eh quella che potrebbe essere stata l'evoluzione reale d'accordo e prendo eh la eh l'analisi eh al fatta dalle le carte mete prese da Bracknell e anche queste si possono eh scaricare. va bene io vedo eh che alle eh eh farvi vedere eccoci noi avevamo una previsione per le dodici d'accordo di una l'avevi fatta vedere anche te no? un 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 centro barico che si stava formando a nord delle Baleari e eh qui una situazione a nord della Corsica dove non era non era visibile almeno in quelle dimensioni la nostra la nostra saccatura eccetera. che cosa è successo in pratica? Il centro barico almeno come previsione poi si era spostato a sud eh ad ovest della Sardegna richiamando aria eh da 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 est al nord della Corsica. questa situazione che era prevista per la mattina successiva evidentemente si è si è anticipata e quindi ha ha fatto sì che quella saccatura che noi avevamo visto e sulla quale avevamo fatto tutti i nostri ragionamenti per eh fare valutazioni scelte che il votaggio ci aveva indicato eh si era chiusa ben prima e eh abbiamo trovato una situazione una situazione diversa da quella che più o meno quasi tutti i modelli al dettaglio ci ci davano. Spero di essere stato chiaro. Sì eh io guarda faccio anch'io ancora un commento se rilasci ehm quell'immagine che l'ultima se la lasci in condivisione ehm io rispondo anche a una domanda che è arrivata un commento che è arrivato da da questa esatto di un commento di Patrizio eh di Patrizio Rosi. Allora eh chi mi conosce sa che quando navigo in in Tirreno eh io sono abbastanza un un fan dei dei dati di Arom di Metro France che trovo un modello che ha una grande affidabilità nella descrizione soprattutto dei fenomeni orografici che poi anche quando siamo in mar aperto tra la Liguria e la Corsica l'orografia è poi sempre quella che comanda sostanzialmente come se navigassimo in un grande lago alla fine. e quindi eh a Rom eh statisticamente è un modello molto affidabile perché ha una descrizione dell'orografia molto eh molto precisa. Però eh teniamo conto ehm di anche di altri elementi cioè non possiamo non fermiamoci soltanto dire a pensare il modello con la griglia più stretta è il modello corretto perché per esempio in una situazione come questa in cui eh noi abbiamo confrontato o Valt ha confrontato due modelli a griglia relativamente stretta da Icon e a Rom che normalmente danno indicazioni simili. Icon normalmente sottostima un po' la la forza del vento e a Rom direi nella mia esperienza ci prende un po' di più ma però per il resto sono concordi. nel momento in cui invece abbiamo due modelli eh a scala di eh dettagliata eh a distanza di poche ore qui stiamo parlando di eh eh 6-12 ore di previsione che danno indicazioni molto discordanti. Una mi indica una saccatura tutta spostata a Levante l'altra la saccatura tutta spostata a Ponente qualche domanda me la devo fare. voglio dire i due i due i due modelli anche a a con una previsione a breve termine eh divergono quando i modelli divergono le le previsioni che che emergono hanno un livello di affidabilità basso quindi sicuramente io avrei detto prima di andare a guardare cosa mi mi raccontava la nave avrei detto qui sicuramente c'è una situazione confusa può avere ragione uno può avere ragione l'altro magari hanno torto tutte e due. infatti in questo caso il modello più glossolano come scala cioè GFS alla fine aveva era quello che aveva ragione perché quella saccatura evidentemente o non si è formata o si è formata ancora più eh ancora più a Ponente quindi non è andata a condizionare il vento davanti a capocorso. quindi attenzione che uno dei dei una strategia che poi è quella che usano i meteorologi nell'elaborazione delle previsioni è proprio quella di vedere quanto i modelli vanno eh a convergere fino a quando i modelli sono divergenti. se voi guardate le previsioni per la prossima settimana e un modello vi dice che arriva eh il grande freddo meno venti gradi e l'altro vi dà una situazione normale eh chi vuole fare lo scoop pubblica arriva il buriane arriva il il freddo russo chi ai piedi un po' più per terra dice due modelli divergenti calme sangue freddo aspettiamo che vadano in convergenza e poi vediamo cosa succede. in questo caso i due modelli anche a sei ore di distanza non vanno in convergenza quindi come diceva Walter se io sono in crociera con la famiglia sto facendo un trasformimento nel dubbio cosa faccio vado su una rotta dritta e tutt'al più farò qualche ora di motore ma non vado a fare magari una una lunga deviazione eh rischiando poi di eh di di non incontrare quello che mi aspetto perché stiamo parlando di differenze veramente molto molto di fino. non so Walter se abbiamo ancora qualche minuto eh se volete provare a far vedere un altro un altro sistema di calcolo che 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 weather 4D che gira su 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 iOS e tra l'altro un sistema autonomo magari fare anche soltanto un un solo modello ma far vedere proprio cosa succede sullo schermo e poi magari facciamo il confronto tra i vari tra le varie app disponibili. ma guarda mh avevo pensato di fare eh lo faccio subito e eh però mh la cosa eh che ho pensato mentre stavi parlando eh ed è una piccola variabile eh è eh è questa eh quelli screenshot che noi abbiamo fatto vedere sono stati fatti il ehm sull'elaborazione sui dati eh del del giorno prima quindi altro elemento importante quando si parlava della obsolescenza dei dei dati è eh è questo il fatto di quanto un dato possa essere eh come dire eh aggiornato questo che ora vedete è eh la eh la Roma HD utilizzando weather 4D che è un altro applicativo che gira su iOS ed è quello con una maglia molto 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 larga e queste sono le previsioni prese il la notte prima del del 12 vale a dire eh noi avevamo pensato di partire il 12 alle 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 5 d'accordo e eh invece eh invece eh avevamo le previsioni magari ci alziamo alle 5 la la mattina e non riguardiamo le ultime previsioni dicendo pensando che magari non fossero non fossero non fossero cambiate. Ecco eh invece se io provo a fare il rotaggio eh sempre dalla spezia a macinaggio sempre con la Roma HD voi vi ricordate la curva che abbiamo visto prima che ci portava verso eh gorgona della rotta eccetera e io faccio una simulazione con il l'ultimo dato che ho scaricato prima della partenza senza mettere nessun tipo di di limite. Qui vediamo le isoprote qui vediamo le isoprote qui vediamo le isoprote sono messe a mezz'ora e vediamo che la rotta è dritta quindi ha tenuto conto della nuova situazione meteo che ora io vi faccio anche eh scorrere lentamente e si vede chiaramente che l'est prende il sopravvento la saccatura è spostata più a sud verso nord ovest della della Corsica e noi arriviamo col vento praticamente attraverso macinaggio. Che ti sembra Roberto? Ottimo ma eh visto che hai fatto vedere anche questa qui magari quella se mostri quella quella tua bella slide di confronto tra le varie varie app anche perché ehm magari chi è che è venuto a navigare con noi ha visto i programmi i top quindi ha visto Adrena però da da Adrena a Squid in mezzo c'è c'è un mondo di applicazioni diverse come pensai quindi se magari diamo un po' un'idea di quello che le persone possano pensare di comprare Parto da Adrena o parto solo dalle app? Ma avevi la slide che faceva vedeva un po' tutto no se non sbaglio? Sì sì sì. Ok. Aspetta un attimo riprendo la condivisione sull'altro applicativo. Ecco qua. Allora in pratica le eh gli applicativi professionali principali il il più famoso quello che quando guardiamo abbiamo visto eh il vende globe il nostro Giancarlo eh lui aveva Adrena sul sul suo pc e eh si va dal dai pacchetti più semplici che fanno onestamente mi sia permesso di dirlo poco di più di quello che viene fatto da dagli applicativi che si trovano anche per eh per i tablet insomma da 649 euro per arrivare a al pro con eh 2.549 euro se vuoi poi Roberto magari faccio un commento visto che il programma lo conosco bene esatto te lo conosci molto bene è quello che noi abbiamo installato su eh su Fiera Mosca allora ehm quali eh quali sono le potenzialità di Adrena? Adrena permette eh di innanzitutto eh raccogliere in diretta tutti i dati di navigazione della barca quindi condizioni vento velocità della barca eccetera e di conseguenza ci permette di rielaborare eh e di ricalcolare eh basandosi su dati effettivamente registrati in navigazione le polari della barca e quindi possiamo eh lavorare sulle polari in modo molto raffinato possiamo escludere escludere magari dei dati che riteniamo poco affidabili o che riteniamo diciamo fortuiti eh possiamo sviluppare polari per vele specifiche quindi ci aiuta poi anche proprio a selezionare eh le combinazioni di vele che servono eh e quindi questa è una è una è un primo punto di forza di questo programma. Poi permette di effettuare i calcoli di routage in modo completamente autonomo, quindi una volta scaricati FireGrib non ha bisogno di altro perché utilizza la potenza del PC per effettuare il calcolo e ha un'interfaccia non facile, quindi contrariamente alle app di cui abbiamo parlato fino adesso, l'interfaccia è sicuramente non molto user friendly, ma appunto permette di lavorare molto sul fino, quindi soprattutto per barche da regata e molto competitive permette di sviluppare anche delle strategie di navigazione sofisticate, ovviamente non è un programma che io consiglierei a un normale di portisti mediterraneo. E' più votata alla regata, assoluto. Alla regata o comunque a navigazioni molto impegnative in cui magari anche appunto avere le polari dell'imbarcazione molto precise anche in funzione delle combinazioni di vele che vengono utilizzate può diventare fondamentale per l'initare strategico. Ma sicuramente oggi il mercato offre molte altre alternative, magari Walter lascia a te la parola. Sì, ecco, parlando di questo solamente per completenza perché diventa fondamentale, cioè chi vuole veramente un confronto fra le proprie prestazioni e questi programmi, se non ha una conoscenza personale di come settare i propri strumenti e non ha strumenti che siano correttamente regolati, tutti i dati che vengono raccolti per calcolare le polari sono falsati da questa informazione non corretta. E quindi, cioè, molti di noi sicuramente, no, in navigazione con la propria barchetta da di porto, barchetta non è riduttivo, insomma, facciamo un bordo di bolina, poi andiamo sull'altro lato e la stazione del vento ci dà una direzione del vento che è di 20 gradi diverso. Ecco, noi in quel momento lì, se non abbiamo punti di riferimento, a parte la nostra bustola e la nostra esperienza, abbiamo un'informazione anche sbagliata rispetto a quella che è l'evoluzione del vento per capire meglio quello che ci sta accadendo intorno, quello che dicevamo sull'evoluzione della navigazione. Quindi avere gli strumenti in buone condizioni e ben settati è fondamentale per tutte le nostre analisi, indipendentemente dall'uso dei sistemi di routage. Poi ora vado avanti, insomma, Expedition è un altro applicativo quasi all'altezza di Adrena, fa molte cose ed è estremamente interessante. Ha un prezzo leggermente più basso, ma è al livello del massimo di Adrena. Poi c'è Max Sea, poi io vado veloce in questo momento, Sea Pro Performance Sailing è un modello inglese, Deckman di B&G che purtroppo non viene più sviluppato da B&G e quindi era integrato con i suoi strumenti, ma per adesso ho sentito anche il rivenditore non lo stanno più sviluppando. E poi per chi è più smanettone ci sono questi software che sono gratuiti, dove bisogna impegnarsi un po' per cercare di utilizzarli al meglio, perché le carte devono essere cercate appunto su OpenCNP, eccetera. Tra l'altro, una curiosità, QT-WLM deriva il proprio nome da degli sviluppatori che si divertivano a seguire le regate virtuali. Chi ha seguito il Vendeglobe in questi giorni ha visto, c'è Virtua Regata, dove vengono fatte le regate virtuali sia in short che offshore, e questi erano sviluppatori perché VLM sta Virtual Loop de Mer. Questo era un po' la curiosità che vi volevo dire. Poi ci sono programmi di navigazione sia su Mac che sulle applicazioni. Vi faccio vedere questa tabella, tanto per arrivare. Questi sono i principali applicativi che si possono utilizzare per fare sia navigazione che routage. PredictWind è molto molto usato negli Stati Uniti o comunque nel mondo anglosassone. Utilizza i modelli generali che abbiamo visto, ma anche ha due modelli proprietari di elaborazione che però sono più tarati sulle previsioni nordamericani. Ci sono varie, gira sia su PC, Mac, sia su Windows e Mac, iOS e Android, e ha dei prezzi che sono diversi a seconda delle funzioni. La versione free, chi se lo vuole scaricare può andare a scaricarsela, è possibile vedere i modelli meteo, mentre per poter fare il routage ci sono, a seconda dei modelli meteo che vogliamo scaricare, per poterlo fare ha un costo diverso. Avalon Offshore è solo su tablet, iOS e Android, e i costi sono quelli che si vedono lì. Avalon Offshore, come Seilgrib, ora ve lo dicevo, si possono acquistare le carte, ma chi per esempio ha su tablet un abbonamento Navionics con la registrazione dell'abbonamento alla cartografia Navionics può interfacciarlo e quindi sull'applicativo si può vedere la cartografia Navionics come base. Poi c'è Weather4D, Routing Navigation, è quello onestamente che a me piace di più, io lo uso insieme a Squid, onestamente, che costa nel modulo Routing Navigation, è il modulo più completo perché ha anche l'integrazione appunto con gli strumenti, ce l'ha anche Avalon e ce l'ha anche Seilgrib. Se si ha un trasmettitore wifi ci si può collegare con i dati della barca e quindi avere sia una visione strumentale dei dati della barca, ma anche poter fare appunto il confronto diretto fra quello che è il modello meteo e quella che è la situazione reale che la barca sta registrando. Questo che è il più completo costa 54,99€ e il meteo per un anno costa 37,99€. Se poi uno vuole le carte dell'Istituto Geografico della Marina, quelle di Navimap, costano aggiornate 49,99€ l'anno. Squid è quello che abbiamo visto, lavora su Windows, iOS, Android e c'ha varie possibilità, non ha la cartografia, c'è una cartografia di quelle online tradizionali. per i modelli meteo che abbiamo visto e fa il routage però tramite server, quella all'alta risoluzione Europa costa 37,99€. Per esempio Racing Mediterranea costa invece 217€, per esempio ci sono i modelli Grib del Lama. Se il Grib è solo per Android è molto simile a Weather4D, quello che lavora per iOS, costa 89,99€ una tantum e le mappe appunto sono gratis oppure ci sono quelle da scaricare prese da l'ammiragliata inglese mi sembra e altrimenti uno se ha l'abbonamento a Navionics le può interfacciare con Navionics. Di tutti questi c'è da dire che per quanto ne so io, non mi ricordo di se il Grib, ma Weather4D è l'unico, forse se il Grib ma non sono sicuro, scusatemi per questa imprecisione, ma Weather4D è l'unico che può fare il routage offline con le informazioni meteo di cui dispone. Se vuoi ve li posso far vedere graficamente Roberto. Che cosa, scusa? Se vuoi li posso far vedere graficamente una schermata per ciascuno. Sì, quello che aggiungo è che appunto vale la pena approfondire poi le capacità di ciascuno in base anche alle esigenze, se no magari io ho già il mio cartografico, è inutile che spenda soldi a comprare anche la cartografia. Certo, parliamo anche di questo eventualmente. Sicuramente il fatto di avere delle app che possono essere autonome nel calcolo, che è quello che poi fanno i software più sofisticati, è molto importante, è molto utile. Quindi Weather4D, che anch'io ho scoperto recentemente, ha delle capacità di calcolo importanti proprio perché mi permette anche senza una connessione internet di elaborare il routage autonomamente mentre sono in navigazione. Se posso c'è una cosa importante da dire anche su questi applicativi. Sì. Si parlava prima della comunicazione della comunicazione tramite internet, e chiaramente se uno non ha internet può avere dei problemi. Allora, qualcuno la volta scorsa, mi sembra proprio il padre Patrizio Rosi, che conosco anch'io e saluto, ci scrisse che l'unico modo è il satellitare. Ecco, io credo che sia, si debba fare attenzione un pochino, perché a seconda dello strumento che si usa per scaricare i dati meteo, ci possono essere costi anche importanti, cioè una cartografia con tutte le informazioni richiesta tramite satellitare da un applicativo, se non lo sappiamo gestire, per esempio semplicemente GFS scaricato con tutti i dati che ci possono interessare, non solo il vento, ma anche la pressione bariometrica, la raffica, le precipitazioni, la nuvolosità, eccetera, per un'area che va da Genova alla Sardegna può pesare fino a 2,4 Mb. Se utilizziamo l'Iridium che ha una velocità di 2,4 Kb al secondo, ci vogliono 16 minuti e dai 25 ai 30 euro a seconda dell'abbonamento. Con Turaia ci vuole un po' meno, ma si spende 11 euro. Ecco, alcuni di questi applicativi, Squid, Sailgrib, anche Weather4D hanno al loro interno la possibilità di selezionare il dato molto limitato del GFS e addirittura si arriva a richiedere un'informazione di 228 Kbyte e questo riduce tantissimo il tempo di scarico e eventualmente il costo. Quindi sono applicativi che tutto sommato sono estremamente funzionali anche per un uso di questo tipo. Mi sembrava importante dirlo, anche se chi ha il satellitare l'ha usato per fare queste cose sa quanto sia estenuante riuscire a scaricare anche piccole informazioni. È meglio, come diceva Meggiorin domenica scorsa, avere un amico a casa e telefonargli se si ha il satellitare. Si spende meno e si ha informazioni più precise. Ok, intanto leggo un paio di commenti che sono arrivati su Facebook. Uno di Antonio che dice tutto molto interessante, ma perché non un bel barometro analogico? Penso che qua io, Walter, Paolo siamo assolutamente allineati. Sì, la risposta è sì, come abbiamo detto la settimana scorsa con Gianfranco Meggiorin. Secondo me la sintesi è che noi dobbiamo essere in grado di sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter navigare nel massimo della sicurezza e allargare al massimo la nostra zona di comfort. Questo significa se la tecnologia ci fornisce delle indicazioni aggiuntive la utilizziamo, ma sicuramente come abbiamo visto anche stasera è importante alzare le antenne e guardarsi intorno, che significa guardare il barometro, guardare lo stato del mare, guardare le nuvole, quindi guardare quello che c'è in questo momento preciso perché ci sono dei fenomeni che non posso intercettare se non utilizzando i miei occhi. Poi i miei occhi possono anche essere occhi tecnologici perché posso dire io non utilizzo internet per vedere quello che sta vedendo la nave a 30.000 di distanza, ma l'osservazione dei dati puntuali, quindi anche i dati radar, per esempio dei radar meteorologici per vedere la situazione dei temporali e dei fronti di instabilità come abbiamo visto la settimana scorsa, quello è un strumento di importanza straordinaria, nessun modello riuscirà a prevedermi come si sposta un fronte temporalesco che sta seguendo un fronte freddo sul Golfo di Genova, ho bisogno di degli occhi che vedano in tempo reale quello che sta succedendo. Non so Paolo, visto che tu ovviamente di esperienze ne hai veramente tantissima, il commento sull'utilizzo del barometro e degli strumenti di bordo coniugati con la tecnologia, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu. Grazie Roberto, sì, sicuramente sono strumenti di fronte a queste cose qua, sono strumenti un po' primitivi, però non dimentichiamo di averli perché sono cose che vanno sempre sempre consultate. Tutto aiuta, per cui Antonio giustamente ha fatto un'osservazione giusta, non dobbiamo dimenticare di ricordarci di consultare anche questo. Posso dire una cosa Roberto? Così perché prego. Beh, io credo che sia importante, io ho un amico, guarda lo metto in condivisione perché che fa le regate e che aspetto un attimo, eccolo qua, che fa le regate e che ha in barca, se ne parlava domenica scorsa, un bel barografo. Ha un bel barografo perché questo gli consente di vedere anche piccole variazioni della pressione barometrica e questo gli fa capire se l'alta pressione o la bassa pressione a seconda di quello che sta andando incontro si sta avvicinando e si sta o si sta allontanando e quindi lui è in grado di poter fare delle valutazioni se è in regata anche su quando fare eventualmente la virata o la strambata per stare fuori dalla zona di poco vento o evitare il groppo eccetera. Io ciò qui lo farei vedere l'appunto preso domenica scorsa e il commento che vorrei fare è che l'applicazione migliore il software migliore di routage è il lo skipper il navigatore che col barometro l'osservazione del mare del vento della carte e della sua capacità di analisi riesce a analizzare quello che sta accadendo tutto il resto sono aiuti cioè se usciamo dall'aspetto performance esasperato tutto il resto devono essere ausili da prendere con 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 le molle perfetto se io guarda questo aggiungerei scusami è un'altra cosa e aggiungerei come informazione meteo che a volte si sottovaluta da guardare è il se c'è internet è l'osservazione del radar e delle fulminazioni per capire come si stanno muovendo eventualmente i fronti rispetto a quello che è la previsione che avevamo perché le previsioni non seguono i modelli hanno un orario possono essere in anticipo o in ritardo e questo è determinante per quella è la nostra navigazione perfetto guarda se mi rilasci lo schermo faccio vedere una slide di sintesi visto che anzi vi ringrazio tutti per la della pazienza e dell'attenzione che stasera siamo andati un po' più lunghi però in effetti l'argomento era sicuramente complesso io come come sintesi delle cose che sono state che abbiamo detto stasera potrei scrivere potrei condividere con voi questo cioè la conoscenza della meteorologia marina è fondamentale per definire la nostra comfort zone quindi la possibilità di navigare in sicurezza o anche proprio in tranquillità dipende chiaramente dalla nostra conoscenza della barca dell'equipaggio della nostra esperienza e interfacciare queste conoscenze con quello che sarà il tempo che farà perché in base a queste variabili io deciderò di fare una cosa o di non farla di partire o di non partire ci sono condizioni meteo che con una barca da regata e un equipaggio che conosco posso affrontare e magari se navigo con la mia famiglia come magari quel venerdì io magari quel venerdì con quelle condizioni incerte quel mare incrociato quell'onda lunga magari me ne stavo un giorno in più a Fezzano prima di partire la meteo la conoscenza dell'evoluzione meteo mi permette di definire anche i piani alternativi mai partire con soltanto il piano A piano B piano C proprio per avere alternative sapendo che soprattutto in Mediterraneo lo continuiamo a ripetere le condizioni meteo sono bizzarre cambiano rapidamente possono essere imprevedibili e possono facilmente evolversi in qualcosa di pericoloso e poi per ribadire quello che diceva adesso Walter il navigatore il vero navigatore è la persona che sa fare una sintesi delle tante informazioni disponibili quindi non disdeniamo la tecnologia ma dobbiamo saper tenere gli occhi aperti ma saper leggere un barometro e saperci mettere la nostra esperienza e saper usare la prudenza e il buon senso per guardare anche in faccia il nostro equipaggio e capire quella che è la navigazione più opportuna da intraprendere con le persone che abbiamo a bordo in quel momento chiaramente è un argomento di una complessità devo dire anche di un fascino come tutte le cose complesse di un fascino straordinario ma che richiede voglia di essere approfondito di essere studiato e anche di fare pratica quindi non basta chiaramente smanettare sul tablet ma poi bisogna navigare e via via confrontare i dati reali con quello che troviamo quindi tutto questo sono degli spunti veramente per tante cose che si possono fare in futuro che anche Paolo sta già facendo con Walter però argomenti secondo me veramente ricchi di fascino non so se Walter o Gianni o Par se qualcuno vuole aggiungere qualcosa io direi che proprio mentre dicevi queste cose qua mi viene in mente sarebbe bello organizzare a breve un qualcosa un corso di routage a bordo dal vivo con Walter e magari anche insieme molto volentieri aspettiamo di poter tornare tutti in barca visto che per il momento purtroppo la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo non possono raggiungere la Liguria ma siamo tutti in attesa di una situazione più serena che ci permetta di tornare le nostre attività didattiche a bordo sarebbe molto bello poter anche fare proprio Roberto un lavoro anche di confronto fra i software professionali e gli applicativi vedere quelli che sono perché io credo che a livello di routage ormai l'elaborazione di calcolo consenta di fare cose egregie è tutta un'altra serie di è un po' come un elaboratore di testi tutti sono elaboratori di testi però magari ci sono quelli che hanno tante altre feature che garantiscono un livello maggiore però ben volentieri spero spero sia interessata sì io pensavo invece in aggiunta che probabilmente tutti gli specialisti oppure quelli che lo fanno perlomeno come attività semi-professionale già conoscano parecchi di questi software e anche le differenze fra uno e l'altro probabilmente per il deportista che magari si avvicina per la prima volta e potrebbero essere numericamente anche un numero appunto elevato sarebbe interessante magari partire proprio da scegliere il sistema più semplice e approfondirlo sia come si scarica il software come si leggono le carte come si aggiungono e così via magari concentrandosi su un software solo in modo almeno che il deportista possa ottenere un risultato diciamo pratico e tangibile in tempi brevi bene d'accordo allora grazie a tutti grazie a Walter innanzitutto grazie a Gianni a Paolo grazie a tutti quelli che ci hanno seguito come sempre con passione con delle domande veramente molto interessanti a brevissimo vi farò sapere quali sono i prossimi appuntamenti ci stiamo lavorando abbiamo tante idee quindi abbiamo bisogno di mettere un po' in ordine il materiale le proposte che abbiamo ricevuto ma a giorni vi faremo sapere quale sarà il programma futuro quindi grazie e buona serata a tutti buona serata grazie buona serata ciao 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 ciao